In uno splendido giardino un angelo annuncia a Maria la prossima nascita di Gesù, porgendole dei gigli candidi, mentre due testimoni inattesi si aggiungono alla scena narrata dai Vangeli. Sono il Battista e Sant'Andrea assenti nel racconto delle Sacre Scritture. Ma Filippino Lippi, autore del quadro, va oltre e ambienta l'evento nella Firenze del Quattrocento, delineando con precisione la cupola di Santa Maria del Fiore, col campanile di Giotto, la torre di Palazzo Vecchio, il Bargello, il campanile della Badia Fiorentina, perfettamente riconoscibili sullo sfondo. A Capodimonte è stato presentato il restauro dell'opera che mancava dal 2016. Angela Cerasuolo, responsabile del Dipartimento Restauri di Capodimonte, ci spiega il retroscena della nascita di questo dipinto. Nasce nel 57, intorno al 57, il padre muore quando lui ha 12 anni, nel 1469. Il Filippino però già lavorava col padre, questi sono dati certi. E c'è notizia di una commissione a Filippo Lippi, quindi al padre, di un dipinto per la chiesa di San Lorenzo. Dipinto che tutto lascia credere sia poi quest'opera. Si conclude con questo restauro il progetto Rivelazione Finance for Fine Art, intrapreso nel 2018 da Borsa Italiana in collaborazione con l'Advisory Board del Museo e il Real Bosco di Capodimonte, che negli ultimi cinque anni ha portato al restauro di altri sette importanti dipinti appartenenti alle collezioni della reggia partenopea. A finanziare questo restauro l'imprenditore partenopeo Francesco Tavassi. Ritengo che ci siano queste opportunità che bisogna coglierle, nel senso che noi imprenditori abbiamo il dovere di essere vicini all'arte, alla cultura e quindi a dare una mano a musei così importanti che fortunatamente abbiamo nella nostra città, così peraltro ben guidati e che danno un lustro e sono un vanto per la nostra città. Un dipinto che attirerà tantissimi turisti ed estimatori, a sottolinearlo il direttore di Capodimonte, Silvan Bellanger. La bellezza di questo quadro, di una pace, di una luminosità, di una serenità che dice sicuramente qualcosa sul tempo di Filippino Lippi e mi chiedo se il nostro tempo sarebbe capace di produrre un'opera d'arte che esprime il tempo con questi valori.